Ciao a tutti, mi chiamo Sibelli, questo sarà più un meccaniche di crisi per una cosa semplice anche nell'Alfa Romeo 147. Cambio fusibili di riferimento per luci e fendi nebbia, quelle sotto che ho cambiato le lampadine non funzionano, quindi probabilmente sono i fusibili, e quell'errore irritante di mancanza di funzionamento nelle luci di freno, però le lampadine funzionano, quindi probabilmente sono fusibili. Cambierò tutti oggi, vi farò vedere dove sono questi fusibili. In teoria saranno tre fusibili da 10 amperi, uno da 15, magari tutti quattro da 10 amperi, li guarderemo ancora al momento insieme. Il fusibile Foglites, luce e fendi nebbia, è il numero 30 della cassa che c'è a fianco del motore, che in teoria è questo qui, 15 amperi, li togliamo e li mettiamo un nuovo. Vediamo se sarà questo il problema. Via il vecchio! Forza! Sperai! Come è la situazione? Ah, sembra che stai esattamente cheimata, ma devo andare a un altro. Non è difficile di sapere, ok? Dami un nuovo. O è questo qui? Dami un nuovo. Vediamo che non mi importa. Non voglio vivere qui nella mia vita. Solo cose nuove. Non sta virando? Non è così. Ok? Ci siamo. Ok? Ci siamo. Noi ci siamo. Noi ci siamo. Noi ci siamo. C'è l'abbiamo di questo. Ok? C'è l'abbiamo. Noi ci siamo. Grazie.